Senti, io con questo caldo non cucino, usciamo? No! E dove possiamo andare? Amore, guarda che ho detto no! Sì, infatti anche io pensavo a qualcosa di sfizioso! Ma stai parlando con me? Bravo, qualcosa di sfizioso e gustoso! Ma quando l'ho detto? Perfetto, 5 minuti e sono pronta! Eh, ma io ho detto no! Ma andò? Bello, vero? Questo è il track itinerante di Garden Gourmet, pensa che sarà qui a Roma fino al 19 giugno! Io comunque ho detto che non volevo uscire! Hai ragione, anch'io ho fame! Pronta ad assaggiare tutto? Ma assaggiare tutto cosa? Io non ho fame! Allora, questi sono i Sensational Burger, poi ci sono gli stracciotti di soia grigliati e poi i nuggets di soia, guarda che belli! Ma io non li voglio! Ah, è vero, ci sono anche i palatel di ceci e spinaci! Allora com'è? Non ho spettacolo il Sensational Burger, ma pure i nuggets sono spesiti! Te l'ho detto, Garden Gourmet mette d'accordo tutti i palati con verdure e proteine vegetali! Ahah! Allora lo senti quello che ti dico? No, amore, semplicemente filtro le cose inutili! Ascolta, ma li portiamo anche a mia madre a cena? Sono buoni anche i falafelle comunque, molto buoni! Amore, ma dove vai? Ah, eppure gli straccetti grigliati sono spettacolari! Hai capito? Garden Gourmet è tutto buonissimo, veramente buono, veramente buono! Amore, ma dove vai? Allora,